Allora ci vediamo il 28 ottobre, la partita di Beneficenza Ciao Pa, associazione Shalom per i bambini in Africa Nazionale Cantanti contro Nazionale TV Quindi perché ci sei tu? Canti o fai TV? Io faccio TV, senti c'è Bova, c'è Bova nella Nazionale Cantanti Ognuno deve avere un bello allora tu sei Mi sono messo le treccine apposta, quindi ci vediamo lì, ciao!